E anche quest'anno è Black Friday Mania! Scoprite come seguirlo e non perdervi nessuna offerta grazie ai live e alla copertura eccezionale su hdblog.it Come avete visto, quest'anno la settimana del Black Friday è iniziata a lunedì 20 e culminerà lunedì 27 con il Cyber Monday. La giornata però più intensa e più ricca di offerte sarà quella di venerdì 24. In realtà già dalla mezzanotte di giovedì 23 sarà possibile acquistare prodotti di elettronica di consumo e non soltanto a prezzi davvero straordinari. Sconti compresi tra il 15 e il 50% con punte anche superiori a seconda della categoria merceologica. Per essere sicuri di non perdervi nessuna offerta ecco i nostri consigli. Prima di tutto sfruttate al massimo i buoni Amazon ancora attivabili e che possono essere sfruttati proprio durante il Black Friday. Li trovate proprio qua in descrizione e sono questi che vi sto facendo vedere adesso a video. Seconda cosa, ricaricate la vostra carta di credito se fosse ricaricabile o comunque siate sicuri di avere abbastanza soldi per soddisfare tutti i vostri desideri. Terza cosa, aprite hdblog e controllate tutti gli articoli e le offerte che ci sono. Grazie al nostro live potrete seguire in ordine cronologico tutte le offerte già dal giovedì prima, quindi dal 23. E vi ricordiamo che tutte le offerte che inseriamo sono state controllate, offrono i prezzi reali prima dello sconto e non i prezzi di listino che Amazon inserisce per aumentare il mio range di sconto, dunque avrete l'indicazione di prezzo minimo dei mesi precedenti e lo sconto reale applicato. Una cosa da non sottovalutare. Zero fregature quindi, anche se ovviamente siamo uomini e dunque qualche errore ci può essere, ma grazie ai vostri commenti potremo sicuramente essere ancora più precisi e puntuali. Su hdblog inoltre troverete uno speciale dedicato agli smartphone con una serie di inserti all'interno della home page e degli articoli dove potrete vedere, monitorare e controllare l'andamento dei prezzi degli smartphone e cogliere le ultime offerte, magari quelle proprio momentanee che durano la manciata di qualche minuto. Non mancheranno tutta una serie di articoli dedicati con le top offerte, con le offerte divise per categoria merceologica, insomma tutto quello che potreste desiderare, lo trovate su hdblog con una copertura straordinaria per il Black Friday che durerà tutto il weekend fino al Cyber Monday. Ovviamente non soltanto Amazon, ma copriremo tutte le offerte principali di elettronica di consumo, da eBay ai grandi negozi di elettronica di consumo, fino ai piccoli store che ormai sono noti e estremamente affidabili. Come sempre maggiori informazioni nel link qui in descrizione, mi raccomando mettete un mi piace